cari amici che come me amate la verità nat russo vi saluta oggi vorrei la verità per favore sulla semplicità volontaria in lingua italiana questo è il neologismo che definisce quello che principalmente nel mondo anglosassone viene chiamato all'interno del mondo del lavoro il downshifting cioè parte integrante del più vasto concetto di lifestyle lo stile di vita o sample living del vivere in semplicità ovvero la scelta da parte di diverse figure di lavoratori particolarmente professionisti di giungere ad una libera volontaria e consapevole auto riduzione del salario bilanciata da un minore impegno in termini di ore dedicati alle attività professionali in maniera tale da godere di maggiore tempo libero da dedicare alla famiglia all'ozio e relax a lobistica ciò che si desidera pare incredibile che c'è chi abbocca e l'apoteosi dell'egoismo fatto sistema filosofico di vita ma a questa manica di aspiranti fancazzisti dandy chi dovrà pagare i servizi sociali quando saranno vecchi malati e stanchi semplice quelli che si sono fatti il mazzo tutta la vita perché statene certi li pretenderanno la verità per favore sulla semplicità volontaria un saluto da nat russo a presto